Un pacco in carcere dentro, 22 cellulari e droga, scovati pure 14 telefonini nel circuito di alta sicurezza. Ben 22 telefonini, quasi un chilo di hashish e due grammi e mezzo di cocaina erano stati nascosti in un pacco postale destinato a un detenuto rinchiuso nel carcere di Contrada Cavadonna a Siracusa. Altri 14 cellulari sono stati scoperti tramite un'accurata perquisizione in tre padiglioni tra i quali quello afferente al circuito di alta sicurezza. Sul caso indagano gli inquirenti in quanto il sospetto sarebbe che un'organizzazione criminale stia gestendo tale traffico in modo da mantenere un contatto con i detenuti propensi a continuare attività illecite anche dall'interno del penitenziario. Chiediamo immediati interventi, afferma Nello Bongiovanni, dirigente nazionale del SIP, perché la carenza del personale è diventata ormai cronica e pericolosa per la sicurezza degli istituti penitenziari. Il SIP da tempo chiede provvedimenti seri ed una riforma totale della Polizia Penitenziaria.